riscontrato un nuovo caso di coronavirus oiastro cilento paese cilentano che al momento conta due casi è di poco fa il comunicato del sindaco michele apolito il sindaco comunica che un altro nostro concittadino è risultato positivo al covid 19 trattasi di un contatto diretto del ragazzo risultato positivo pochi giorni fa entrambi stanno bene e per gli stessi è stata disposta apposita ordinanza di isolamento anche per questo nuovo caso è stata ricostruita la catena dei contatti e disposti relativi provvedimenti rinnovo l'invito a tutti i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle regole confido nella vostra collaborazione e sarete aggiornati costantemente sugli sviluppi della circostanza